altra catena a meno di 10 euro con cui potete mangiare a tokyo su chi ha ben tre negozi a shinjuku e in tantissime altre stazioni del di tokyo vediamo un po di foto e menu sono molto economici ma un pochino più raffinate rispetto agli altri negozi c'è anche il curry e degli don vedete con l'uovo l'hamburger piuttosto che questo credo che forse della soia pollo è famoso per l'anguilla anche insalatine questa è l'anguilla uova molto semplice ordinare ci sono anche in quasi tutti i negozi ecco qua dei computerini giapponese inglese molto chiaro immagine prezzo non potete sbagliarvi 5 euro 4 euro per una bella tazza di riso questa cipolla formaggio buono vivamente consigliato un bello vetto fresco e niente buon appetito